che io stesso ho inventato. Ma parliamone con un esponente di quella generazione che, al contrario di molti suoi coetanei, ha deciso di farsi da parte e lasciare il lavoro a quei giovani che proprio ci tenevano. Buonasera, dottor De Cristofari. Buonasera, dottor Ferrario. Buonasera. Grazie per le belle parole spese sui giovani. Siete l'unico programma che fa servizio pubblico. Voi e TG2 Motori. Grazie, De Cristofari. Dunque, lei è un architetto di fama mondiale, ha costruito infrastrutture ovunque, ma dopo una vita di viaggi e grandi opere, non si annoia a stare seduto in terrazzo? Guardi, allora, innanzitutto, per rendere così bello questo terrazzo, mi ci sono voluti sangue, sacrifici e tre stagisti del mio studio che spostavano i vasi. Comunque, insomma, continuo a tenermi occupato. Ogni tanto, qualche piccola diga o un aeroporto non internazionale continuo a farlo, ovviamente a rimborso spese. Non sia mai... Quindi, insomma, possiamo dire che lei sia un uomo realizzato e, diciamo la verità, la sua generazione aveva il vento in poppa. Mi permetto, eh? Guardi, vede, io avere il vento in poppa non basta. Bisogna saper timonare un buon bialbero. Glielo dico per esperienza. Per carità, la mia generazione ha potuto contare su una scarsissima competizione internazionale, il periodo di pace più lungo della storia, un uso indiscriminato del debito pubblico, dico per dire. Però anche noi avevamo i nostri problemi. Pensi soltanto all'uso sconsiderato delle pennette alla vodka che negli anni Ottanta ci ha imbarazzato a tutti. Guardi, per carità, architetto, veramente ognuno ha i problemi che ha. Però lei, che futuro prospetta per i giovani? Vede, Ferrario, io sono molto preoccupato. Io mi chiedo costantemente quale mondo lasceremo ai nostri figli. Ecco. Io per ora alle mie bimbe ho lasciato alcuni appartamenti. Fatto bene. Flaminia e Aurelia. Che saluto, le mie piccole, le mie bimbe. Che bei nomi, bellissimi i nomi. Grazie. Le abbiamo chiamate così perché una è stata concepita nella casa in Umbria, l'altra nella casa in Toscana. Le dirò che sono molto preoccupato per loro. Guardi, vado a dormire terrorizzato. Una si spacca la schiena progettando gioielli a Londra, l'altra sta tentando faticosamente di fare la romanziera a New York. Curvas di un MacBook Pro. Capisce bene che ragazze, come le mie figlie, hanno una certa difficoltà ad arrivare alla fine del semestre. Guardi, io lo capisco benissimo. Anzi, io posso chiedere un piccolo applauso per queste due ragazze che con tenacia stanno lottando per inseguire i loro sogni. Guardi, c'è un termine che io non uso spesso, ma con i giovani non posso esimermi. La resilienza. Io di questi ragazzi apprezzo la loro voglia di mettersi in gioco, inventarsi lavori smart, preferire una bici e l'acquisto di un'automobile per svolgere il proprio lavoro. Una scelta sostenibile e responsabile. Ha ragione. Viva Dio. Le dirò a Ferrario, che invidia mi fanno i giovani. Cosa darei per essere come loro? No, mi scusi, posso dire una cosa all'architetto? Ah no, subito. Filippo De Angelis, ecco, uno dei giovani resilienti. Prego, come dite voi, scialla. No, 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 mi permetto di chiedere all'architetto, è sicuro che vorrebbe essere giovane? Cioè, lei ha mai consegnato un doppio cheeseburger a Piccadilly Circus sotto alla pioggia per due pound all'ora? Però non si legge il nome sul citofone e l'algoritmo ti fa la multa? No, perché se vuole facciamo a cambio. Ferrario, ma lei l'ha visto? L'ho visto. Che meraviglia. Il ritratto della resilienza a cambio con lei, ma purtroppo è ora di innaffiare la Bougainville, che oggi qui c'è un sole che ci si abbronza l'ombra. Vada, architetto. Correre, correre. Filippo, ma hai fatto andare via l'architetto? E dai, scusa, c'avevo uno super ospite. Ho capito, ma me sti vecchi mi fanno proprio incazzare. Cioè, io sono andato via dall'Italia proprio per colpa di gente tipo questo qua. Vabbè che mi sono diplomata a OIADAP, però un po' del design l'avevo studiato. Cioè, io ho lavorato in otto studi diversi. In uno facevo le fotocopie, in un altro facevo il dog sitter, in un altro ho disegnato il ponte suo stretto, però ovviamente il progetto ha firmato l'architetto e a me mi ha dato due buoni pasto. C'avrò il diritto di essere un po' polemico, no? Sì, va bene, Filippo, però veloce perché dobbiamo andare in pubblicità, ho un tassativo. E lo sai chi le ha montate queste pubblicità? Chi? Probabilmente uno staggista di qualche agenzia sottopagato come me. Gira gira, stiamo sempre là. Però, Filippo, ti prego, se dovevi fare così invita o Che Guevara, eh? Dai, ti prego. Ma quale Che Guevara? Ma chi è? Ma lo vedi che volete solo banalizzare i nostri discorsi? Cioè io te giuro, sti vecchi che dicono che belli giovani, che belle biciclette, che bella resilienza, mi fanno veramente sbroccare. Ma poi, una domanda, ma che cazzo è sta resilienza? Se può sapere? Ma guarda, Filippo, ognuno ci vede un po' quello che gli pare. Io sapevo che era un tatuaggio di Gianluca Vacchi, poi su Focus ho letto che è il passaggio dallo stato gassoso a quello liquido. Rupert, te lo sai che è la resilienza? Boh, dottor, io sapevo che era una specie di sedano rapa. No, quello è il topinambur, Rupert.